Nel video precedente abbiamo visto come far generare con il comando REND numeri casuali nell'intervallo desiderato, aiutandoci con l'operatore modulo. Ma la verifica della correttezza del piccolo algoritmo utilizzato è stata un po' miserina, accontentandoci di fatto di un paio di ciao. Oggi inizieremo sfruttando un ciclo while per generare una gran quantità di estrazioni e infine aggiungeremo dei controlli per escludere, almeno su grandi numeri, non è ancora una dimostrazione che i numeri estratti stiano tutti all'interno dell'intervallo previsto. Buona visione! Cominciamo col far generare infiniti numeri. Usiamo cioè un ciclo while, indicando come espressione logica che se vera fa ripetere il ciclo, una che è sempre vera, il valore booleano, la costante booleana, true. E questo è il risultato, una stampa infinita. Ad occhio i numeri sembrano, compresi tutti nell'intervallo desiderato, ma ci sono tutti? Ce n'è qualcuno che è al di fuori dell'intervallo? Aggiungiamo qualche controllo. Prima di tutto preparo una variabile intera in cui memorizzare in modo permanente il numero estratto. Nel ciclo la prima cosa che si fa è estrarre e memorizzare appunto in questa variabile. Il controllo è questo. Se il numero estratto è minore di 1 oppure maggiore di 6 abbiamo un problema, al che decido con un break di interrompere prematuramente l'esecuzione del ciclo. Questo che fa il comando break. Esci dal ciclo, per cui un salto dopo la parentesi graffa. E qui la stampa, perché se siamo qui, se siamo usciti dal ciclo, non dovremmo mai uscirci diversamente, allora è perché è stato trovato un numero non corretto. E lo stampiamo. Mandiamo in esecuzione. Ecco, di nuovo non è una dimostrazione, però più tempo trascorre senza che il ciclo si fermi e più diventa verosimile che effettivamente i numeri estratti stiano tutti all'interno dell'intervallo desiderato. Questo però ancora non ci assicura che vengono estratti tutti, dall'1 al 6. E se per qualche motivo il 5 non fosse presente tra i numeri estratti, dobbiamo rendere ancora più intelligente il nostro ciclo. Dovendo risolvere il problema con gli strumenti al momento a nostra disposizione, utilizzano tecnica un po' lunghetta e se volete farraginosa, ma che comunque rappresenta un bel esercizio sull'utilizzo del tipo bool e delle espressioni logiche, le condizioni in generale. Preparo 6 bool. Ciascuno deve dirmi se il numero corrispondente, l'1, il 2, il 3, il 4, il 5 o il 6, è stato o no estratto fino a un certo momento. E quindi, prima di iniziare ad estrarre, li metto tutti a false. Vi ricordo che l'espressione che utilizza l'operatore di assegnamento, associa da destra verso sinistra, quindi viene fatto prima l'ultimo, il valore assegnato è restituito come valore dell'espressione di assegnamento e a sua volta diventa il valore di n5, che a sua volta diventa quello di n4 e così via fino a n1. Nel ciclo, dopo aver estratto un certo numero, con uno switch, andiamo ad assegnare true al bool n1, se quel numero è proprio 1, case 1. Se invece è estratto il numero 2, assegniamo true n2 e così via. Poi, i motivi che ci portano a comandare il break per interrompere il ciclo, sono diventati due. Quello di prima, cioè se è estratto un numero esterno all'intervallo desiderato, oppure se tutti i numeri sono stati estrati, dall'1 al 6, almeno una volta ciascun numero. Questa espressione logica è infatti vera solo quando tutti i bool avranno ricevuto il loro valore a true, perché almeno una volta è stato estratto il loro numero. Dopo il ciclo, che finisce qui, un controllo più accurato. Se siamo usciti perché si è verificata questa condizione, allora possiamo visualizzare questo messaggio, altrimenti siamo usciti perché è scattato il controllo per errore e siamo ancora di nuovo nei guai. Mando l'esecuzione, ecco, come si sperava, non c'è nessun errore nell'algoritmo che genera i numeri e almeno una volta sono tutti usciti. Due volte il 6, due volte il 5, poi un'altra volta il 6, poi ancora il 5, poi finalmente fanno capolino anche gli altri. Uno, ancora il 5, il 3 e il 6, che è molto fortunato evidentemente, 2 e 4. Ci sono proprio tutti. E proviamo anche a forzare la mano per vedere se scatta il controllo sull'errore. Generiamo di proposito un numero che può andare fuori dall'intervallo 1, 6. Mettiamoci 9 qua e riproviamo. Come voleva si dimostrare. 6, poi il 9 e allora se ne accorge, si esce dal ciclo e il messaggio è quello giusto. Siamo nei guai, è stato estratto il 9. Vi mostro tutto il codice dall'inizio perché a volte si perde un pochino il senso. Ok. Adesso che siamo ragionomamente sicuri della bontà del nostro algoritmo di generazione, torniamo al nostro problema reale, che è questo. Anzi, questo è già un ripiego perché in origine c'è quello della lettura del file che sta ancora aspettando. Dunque, il ciclo deve accorgere quando è la terza volta che esce il 6 e terminare. Aggiungo allora un contatore che conta quante volte è uscito il 6 e parte ovviamente da 0 e il ciclo continua finché è vera questa espressione logica. Condizione che il contatore dei 6 è minore stretto di 3. Poi disabilito commentandolo il codice con cui abbiamo fatto prima i test. Col code blocks il comando dopo aver selezionato le righe è CTRL SHIFT C. E infine un semplice controllo sul numero estratto. Se è il 6, incrementiamo il contatore. E in ogni caso facciamo stampare il numero. Poi per raggiungere un po' di pepe mettiamoci anche un secondo contatore che conta tutti i lanci. Quindi quanti ce ne sono voluti in totale per averne 3 col 6. Questo contatore invece ovviamente andrà incrementato sempre. Scendete. Dopo il ciclo di nuovo a questo punto conviene commentare questa parte e mettiamo questo messaggio. Lancio. Ecco qui. sono voluti 23 lanci. Ho dimenticato la parola lanci. Per far estrarre 3 volte il 6. Benissimo. Grazie. 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 Grazie.